Grazie Presidente, Signor Commissario, cari colleghi, c'è molta da felicitarsi con il collega Tuan Manders, congratulazioni per questa risoluzione e relazione che cerca di mettere un po' d'ordine nella cacofonia crescente del mercato globale. In particolar modo sono interessato alla questione della mercatura di origine obbligatoria, sulla quale in Commissione Commercio Internazionale, che è la mia commissione di appartenenza, come relatore ombra del gruppo liberal democratico, lavoro insieme alla relatrice Cristiana Muscardini e di cui questa relazione Manders anticipa in qualche modo qualche piccola parte. Di fatto nel mercato globale nel quale noi ci muoviamo abbiamo una regolamentazione per la marcatura di origine obbligatoria negli Stati Uniti, in Cina, in Australia, in Messico, in Giappone, in molti altri paesi, il che crea un'assimetria che condiziona in modo pesante sia i produttori sia i consumatori del nostro continente, con delle anomalie che devono essere corrette. Questo è tanto più vero per quanto riguarda i prodotti tessili, che hanno un problema di sicurezza che è già stato ricordato, ma che hanno anche, come dire, una suggestione per quello che riguarda l'origine, direi quasi una sorta di poetica dell'origine, che è particolarmente significativa. Oggi ci muoviamo in una situazione di nebbia, nel senso che abbiamo prodotti sui quali la marcatura è di origine, è inclusa perché fa comodo al produttore, altre volte non è inclusa perché non fa comodo, altre volte è inclusa ma su regolamenti che sono di altri paesi, perché il prodotto è esportato anche negli Stati Uniti o in Giappone e allora si pensa anche a quei mercati. Abbiamo bisogno quindi di avere delle norme europee in proposito. Sotto questo profilo lo sforzo del Parlamento europeo, sia attraverso la relazione del collega Tuan Manders adesso, che con il lavoro che stiamo svolgendo in Commissione Commercio Internazionale, è lo sforzo, per così dire, di tramare la nostra tela per una maggiore chiarezza per il consumatore e il produttore. Grazie. Grazie.